Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Un aereo passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi e ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me, succede perché fingo che va sempre tutto bene, ma non lo penso in fondo. Torneremo ad avere più tempo e a camminare per le strade che abbiamo scelto, che a volte fanno male per avere la pazienza delle onde di andare e venire e non riesci a capire. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta tutto via con sé. Succede anche se il vento porta via con sé. Succede anche se il vento porta via con sé. Succede anche se il vento porta via con sé. Succede anche se il vento porta via con sé. Vico un saia fiori